Benvenuti a Question Time, il nuovo programma di Trentino TV in collaborazione con il Consiglio Provinciale di Trento per far conoscere meglio l'attività del Consiglio Provinciale e dei Consiglieri Provinciali. Siamo in compagnia di Roberto Packer, Consigliere Provinciale della Lega. Benvenuto. Grazie, un caro saluto. Partiamo proprio con un suo recente intervento in Consiglio Provinciale. A seguito della realizzazione dello svincolo sulla Stata Stalin 1947 della Valsugana in direzione Barco, si è convenuta la necessità di realizzare una rotatoria al fine di rendere più accessibile il collegamento tra l'abitato della frazione e la città di Levico ed incrementare la sicurezza del tratto stradale. Il progetto iniziale prevede la realizzazione dell'opera in corrispondenza del ponte sul fiume Brenta, tuttavia sulla base di ulteriori approfondimenti e superluoghi svolti dai servizi provinciali competenti sono emessi potenziali vincoli e difficoltà costruttive. Tutto il suo permesso si interroga alla giunta provinciale per conoscere le progettualità relative alla realizzazione della rotatoria di via per barco presso lo svincolo della SS-47. Le hanno dato risposta? Sì, mi hanno dato risposta positiva, c'era appunto la necessità di realizzare una rotatoria perché dopo l'uscita dalla SS-47 in direzione Barco, un'opera che ha completato la giunta Fugati sulla quale mi ero impegnato in prima persona, si era appunto creata questa situazione di pericolosità e quindi la giunta provinciale ha ritenuto di fare l'opera e contestualmente anche di rifare il ponte alzandolo per evitare quindi dover chiudere quella strada nel momento in cui ci fosse una possibile alluvione o comunque l'innalzamento del firma Brenta. Sono stato molto soddisfatto della risposta perché vedrà realizzato a Barco di Levico appunto un nuovo intervento viabilistico e di messa in sicurezza della strada. Ed ora la domanda di una cittadina. Io credo che la più importante domanda che devono discutere i politici c'è la sanità, guardare un pochettino nella parte dei poveri per alzare un pochettino i stipendi. Ecco, la domanda sicuramente era molto generica. Consigliere Packer, lei che tipo di ragionamento si sente di fare su questo? La domanda è estremamente attuale, nel senso che la salute sta a cuore a tutti e da parte della giunta Fugatti c'è stata grande attenzione in confronto di questo argomento. C'è stata per far fronte in maniera strutturale alle criticità che derivano dalla carenza di medici. Quindi la facoltà di medicina a Trento è stata sicuramente un'iniziativa lungimirante che darà i propri risultati, i propri frutti. Per quanto riguarda l'aspetto invece economico voglio ricordare che in occasione della finanziaria dell'estamento del bilancio che andremo a approvare il mese di luglio è previsto il rinnovo contrattuale da 2025-2027. Non è mai successo che venisse rinnovato prima della scadenza il contratto del pubblico impiego e in questo contratto entrano tutti gli operatori sanitari. Quindi la pertinente domanda della signora trova anche puntuale risposta. Parliamo di orsi, proprio in questi giorni abbiamo visto quelle immagini che hanno fatto il giro del web con la mamma, con tre orsetti che giravano in un giardino poco sopra arco. La sua posizione, che soluzioni trovare? Guardi, il tema degli orsi è un tema grave, drammatico per il Trentino, sfuggito di mano. La mia posizione è estremamente rigida e io sono dell'idea che bisogna abbatterli, bisogna procedere con l'abbattimento. La legge attualmente ci permette di poter abbattere otto, è il minimo sindacale ma dobbiamo contenerli perché non possiamo più vedere immagini come queste con orsi che girano indisturbati nei giardini di casa, negli orti di casa. Non dobbiamo aspettare che scatti che arrivi un altro morto o altri fatti gravi, dobbiamo intervenire prima e l'alternativa, al di là delle chiacchiere di chi, ambientalisti, centro-sinistra, si arrampica sugli specchi per contestare e per dire di no alle proposte fugati, l'unica alternativa è quella dell'abbattimento. Chiarissimo, ringraziamo molto Roberto Packer, consigliere provinciale della Lega. Grazie e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento con Question Time. Grazie a tutti.